Due arresti, 65 indagati, migliaia di confezioni di farmaci sequestrate assieme a denaro contante. I carabinieri del NAS di Treviso hanno portato alla luce un consistente traffico internazionale di sostanze dopanti destinate principalmente a bodybuilders in tutta Italia, a gestire l'importazione e la commercializzazione dei medicinali madre e figlio di 60 e 35 anni, originari della Sicilia e residenti nel Monte Bellunese. Lui ufficialmente disoccupato, personal trainer in nero in diverse palestre della marca, lei collaboratrice scolastica in aspettativa. L'indagine è partita da normali controlli nelle farmacie. Ci siamo di conto che c'è un fenomeno criminale ricorrente, ossia la spedizione di ricette false per acquistare farmaci. Per lo più farmaci ad effetto dopante, ad effetto tipicamente utilizzati anche nelle palestre. Ecco quindi che nel marzo 2020 madre e figlio vengono sorpresi mentre stavano per spedire ricette false per l'acquisto di medicinali a base di ormone della crescita. Dalla perquisizione a casa dei due è emersa l'entità del commercio. A casa loro abbiamo trovato un'altra vera e propria farmacia con 55 mila euro di farmaci, 800 confezioni, migliaia di fiale. E poi 42 mila euro in contanti nascosti in una maglietta ad un vero e proprio preziario delle sostanze. Dalle successive indagini sui telefoni, computer, conti correnti dei due, i carabinieri sono risaliti sia ai canali di approvvigionamento dei medicinali in Italia e all'estero sia ai clienti ai quali i farmaci dopanti venivano venduti. Tra i denunciati anche i due titolari della tipografia che stampava le ricette ed una farmacista compiacente. Tra le sostanze smerciate anche uno stupefacente. L'androlone è una di queste sostanze farmacologiche che vengono utilizzate come medicinali ed è tabellata, entra quindi nella previsione normativa della DPR 309 del 90 e quindi è una sostanza stupefacente a tutti gli effetti. Questo ci ha consentito di arrivare alla richiesta di misura cautelare in confronto degli indagati. Ieri il figlio è stato arrestato ad Agrigento dove si era trasferito dopo la prima perquisizione ed è ora in carcere. La madre è ai domiciliari.